Partono le Family Run 5 le tappe e sabato 1 ottobre la competizione si svolgerà a Chioggia. Il ricavato sarà devoluto a Disabili No Limits Onlus. Le Family Run sono corse non competitive che si svolgono in varie tappe prima della Venice Marathon su un tracciato di circa 4 km. La manifestazione vuol coinvolgere ragazzi, famiglie e bambini ed è diventato ormai un classico appuntamento sportivo. Si parte domani, venerdì 30 settembre a Porto Gruaro, sabato 1 ottobre a Chioggia, venerdì 7 ottobre a Sandona di Piave, sabato 15 ottobre a Dolo e Riviera del Brenta e infine mestre, venerdì 21 ottobre. Per quanto riguarda la tappa di Chioggia, il punto di ritrovo sarà alle 9 all'Isola dell'Unione. La quota minima per partecipare è di 5 euro, di cui 2 copriranno le spese, 2 saranno donati alla scuola aderente e 1 euro devoluto in beneficenza all'Associazione. Allora siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è alla CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacci da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente, intero e un territorio nazionale.